M. Ankarani, come ha cambiato la professiona legale negli ultimi anni? Quali progetti ha fatto e cosa ha fatto? Penso che la scuola generale della necessità del legale ha aumentato molto. In particolare, le compagnie hanno aumentato il numero di persone che hanno scelto perché c'è più e più necessità, perché il generale ha cambiato, ha diventato più complicate e ci sono molti problemi che bisogna concentrare. Penso che è diventato più complicate, la necessità del legale è aumentata in ogni compagno quindi penso che sia un challenge per ogni legale, inhouse, legale consigliere che si aspettano le aspettazioni. Grazie. Grazie mille. 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 Grazie mille.